ciao ragazze ciao a tutte allora videocreazioni nuovo di giugno vi volevo far vedere un po due tre cose che avevo fatto perché dalle foto come sapete non viene mai bene niente quindi devo far vedere da vicino allora questa l'ho presa da un tutorial di forse rovescio di loredana croce che fa i video su youtube insegna benissimo l'uncinetto e faceva questa collana tipo corallo diceva anche di indurirla un po con la lacca per capelli l'ho fatto e ho creato questa bianca semplice a un giro solo per cui il cotone era più grosso e quindi è venuta bella grande e poi invece ho provato con un altro cotone che ho trovato che è rosso e lo rifatte il rosso doppia quindi qui sono due collane attaccato un all'altra sempre la lavorazione è attaccata però sono due giri di quella di prima praticamente se la facevo singola veniva così perché veniva così mentre invece doppia viene un po più ricca e quindi l'ho fatta doppia qui ma è stato un po più difficile indurirla ma anche lei diceva di uno di indurirlo e l'altro meno per lasciare questa questi movimenti alla collana e io l'ho lasciato così praticamente sono due come vedete a me piace molto questa con il filo più grosso quindi o lavorerò in doppio questo qui rosso per me perché volevo farne la rossa e oppure dovrò prenderlo più grosso e rosso questo è solo il collano 100 loredana croce vi lascio l'info box il suo link non lo faccio spesso ma mi piace ogni tanto premiare queste queste creatrici di uncinetto perché penso che comunque sia una bella tecnica che se spiegata bene può produrre appunto questi capolavori perché per me questo capolavoro poi qui io non ho fatto niente ma se ci mettevamo magari qualche cristallo lo dico anche a loredana magari non era venuta l'idea oppure può essere che gli era venuta ma non lo so magari si potrebbero aggiungere i cristallini magari nelle puntine oppure anche in mezzo non so o cucirli dopo ma credo che sia un po più difficile ma invece lasciarli nella lavorazione ogni tanto tira giù un cristallo credo che poteva venire una cosa molto carina anche lì però poi creazioni di mamu ho fatto questo che a me piace tantissimo l'ho fatto proprio lunghina era faceva tipo girocollo non so e spiegava questo punto così triplo quel 3 2 3 cristallini era un po più carina delle altre semplici quindi l'ho fatta penso che ne rifarò un'altra perché mi piace molto per l'estate ma anche per l'inverno perché sui maglioncini così lunghino magari anche col colo alto riesco magari a ad avere più insomma più collanine da abbinare e questo è il quarto a collane direi che abbiamo fatto tutto borse borse allora prima vi faccio vedere questo vi ricordate quella dell'altra volta che abbiamo fatto vedere che era in bordeaux l'ho rifatta perché provo a agganciarla da qualche parte l'ho rifatta con questo tessuto delro repellente così coi limoni ed è praticamente sempre la solita borsa tulipano dell'altra volta poi gli ho fatto un portachiavi qua con un borsino rotondo con la zip perché chiaramente dentro non avevo fatto nessuna tasca e anche se potevo magari farla nella fodera però andava a finire molto molto in giù quindi non lo so ho ritenuto più opportuno fare un adesso qui andava stirato non lo stirato un borsino rotondo e come sempre metto il mio cuoricino che vuol dire fatta mano da mare e il mio marchetto dentro e poi ho fatto anche la mascherina uguale mascherina che vabbè su una valmare in certi posti magari al chiuso bisogna metterla e quindi borse mascherina uguali e questa è una poi con la stessa stoffa perché me ne era rivasta ne ho fatto anche un'altra questa qui c'è un tutorial di su di suite o sui sui mi ricordo mai sui 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 cercata è molto brava e spiega come fare questa borsa vedete che sotto è così praticamente sono quattro spicchi attaccati poi qui al posto dei manici mi avevano dato queste passamanerie grandi così li ho cuciti in doppio e ho fatto i manici anche nell'altra vedete era una passamaneria grossa ne ho dei rotoli quindi devo fare qualcosa ho fatto questo poi qui ho attaccato una di quelle nappe di da su questo attaccato qui ma non andrà qui va dentro una di quelle nappe di bababa bibi craft e gli ho attaccato il suo borsino il suo borsino così con il clic clac questa volta apertura così per mettere dentro non so il cellulare o quello che serve spiaggia insomma e questo è il quanto poi ho fatto ieri queste che sono delle borse fatte a tortellino ecco qua dicevo le ho fatte così a tortellino così e questa versione qua a puan questa l'ho già venduta e questa qui invece da vendere ma mi sa che viene a casa con ma perché mi piace anche come borsina per uscire la sera magari li mettiamo dentro un sacco di cose ci stanno dentro per cui non è una borsa poco capiente e alla zip la zip per aprirla qui nascosta e i due bottoncini qua ho messo i bottoncini perché magari se un amiche della tracolla gli faccio la tracolla e gliel'attacco qui con i bottoncini va bene ma questa è una mia cosa quindi le due borse tortellino le due borse da mare le collane siamo pronte per la spiaggia questo è il mio video creazioni per ora perché avevo fatto anche un altro paio di orecchini ma li ho venduti subito erano una signora che me ne aveva chiesti e altre cose non ne ho fatte perché con questo caldo io le perline le guardo e poi visto che mi si attaccano le mani non riesco a farle invece c'è cucito creativo e queste cose che riesco a fare lo stesso e vi volevo far vedere anche un'altra cosa che sono riuscita a finire e la vado a prendere poi ve la faccio vedere ecco qua è un'altra borsa questa volta fatta sacca così tonda sotto stondata stondata qui e qui con una passamenaria pompon e il suo borsino sempre clic clac clic clac dove mettere appunto le cose dentro la borsa chiavi queste cose qua che magari spiaggia si possono perdere anche questa con i manici però questa volta cuciti fatti e qui al posto sia pertanto qua e non c'è chiusura questo è un po da meno per poi vi volevo far vedere un'altra cosa l'ultimissima e poi dopo chiudo anche questa è una borsa che avevo fatto l'altro giorno questa qui è una sciarpa in lana merino suoi mi direte ma con questo caldo è sì io con questo caldo sono riuscito a venderne una perché la cliente aspettate un attimo che appoggia il telefono la cliente aveva comprato il basco quest'inverno e voleva anche lasciata visto che adesso è caldo e la lana così si asciuga in tre minuti fuori ho fatto questa cosa ho fatto in un collo questo magari non ci sta tanto neanche bene ho fatto questa sciarpa uguale al basco con il fiore di questo trovate il tutorial su etsy sia per fare i fiori ecco qui dicevo la sciarpa vi faccio vedere com'è è bella lunga tutta ondulata con i disegni disegni li possiamo fare noi con la seta e quindi vi farò anche il tutorial con la seta e quindi se vi piace la tecnica sono morbidissime sono vendibilissime lo dico perché non pizzicano e danno un calore che soltanto la rana merino sta specialmente per la cervicale d'inverno ottimali quindi tutorial di questi lo trovate su etsy mentre invece tutti gli altri vi ho detto più o meno le creative che a cui appunto ho attinto i canali a cui appunto ho attito per fare questi modelli di borse eccetera per il contesto ve lo dico non mi sono dimenticata sto facendo ancora la cernita delle cose e visto che siamo a 30 mila 900 iscritti aspettiamo i 31 mila fra 100 iscritti ci sarà il contest quindi preparatevi manca poco una settimana più o meno una settimanina si parte con il contest quindi state attente state pronte va bene vi saluto iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e mettetemi un commento sotto per dirmi cosa ne pensate di queste cose che avete visto grazie loredana grazie susi grazie a tutte queste creative che mettono anche il loro la loro sapienza su internet gratuitamente per noi e mi hanno fatto imparare tante tante cose per chi ama il cucito ve lo dico provate questi canali perché sono veramente veramente belli dal mio negozio è tutto ciao a tutte buona creazione